www.wartomas.com Quindi abbiamo conquistato grossomodo le parti dell'Indocina, oggi conquisteremo la Malesia, Singapore e procederemo con la conquista delle Filippine, l'Indonesia e l'Australia, penso io no perché è garantita dagli Stati Uniti, la Nuova Zelanda anche, sì, è anche dall'Australia, vabbè, quindi l'Australia e la Nuova Zelanda per adesso non possiamo toccare, ma potremmo toccare solo dopo, perché abbiamo dichiarato guerra alla Nato. Quindi, adesso procediamo subito con la Malesia che non è garantita da nessuno e le nostre divisioni dove erano messe queste, sono un po' eccessive 160 però, le van messe visto che purtroppo, purtroppo, vabbè, si era formata una fazione non desiderata e quindi abbiamo dovuto ricorrere ai ripari. Qui siamo in una fase del gioco dove ero molto inoltrata quindi non ci resta più nulla da costruire, anzi da ricercare. E dobbiamo solo andare avanti con le nostre conquiste. Mi avete fatto notare che le divisioni della Nato, sono molto, delle nuove europee in particolare, sono molto forti quindi dobbiamo stare attenti. Poi mi avete detto anche di potenziare, di potenziare, di farsi il partito reazionario a un... Che non so se si possa fare, sì? Farsi il partito reazionario a una nazione, tipo in questo caso il Messico, in modo da poter avere uno spazio per poter attaccare gli Stati Uniti senza troppi problemi. Ovviamente con i problemi tendiamo a sbarchi e possibili... le possibili complicazioni con essi, appunto. Andremo a avere circa 900 di visione, adesso diamo un'occhiata. Ah no, 1000 di visione diamo adesso, perfetto. Delle quali corazzate però 25, quindi molto poche. Però qui siamo a posto, direi che dovremmo riuscire ad attaccare senza grossi problemi, adesso. Attacchiamo, stiamo registrando tutto perfettamente, sì. Quindi, andiamo, ancora stiamo in guerra. Non ti può piacere che non ci stiamo riuscendo. Che sono molte divisioni, penso. Aspettiamo un attimo. L'hanno fatto sicuramente un botto ai morti. 37.000 contro 37.000, quindi si stanno dipendendo bene. Noi invece, le nostre divisioni, stiamo cominciando a far schifo. Andiamo a scuola e vediamo per quale motivo loro stanno vincendo, no? Hanno moltissima difesa. Andiamo a scuola e vediamo. Ma che cazzo Facciamo così un attimo Ah giustamente devo fermare il piano Altrimenti continuano ad attaccare all'infinito Eravamo nel forzo della Nato Ora si dovrebbero spostare no? Allora quello che devo fare è Spostare un attimo Per evitare di Intracciare le nostre linee di disfornimento Tutte queste divisioni In modo che così potremo attaccare Senza grossi problemi Tanto qui è tutto libero Costruiremo delle nuove Guardate tutto al massimo Costruiremo delle nuove infrastrutture Qui Visto che ci servono E non possono ovviamente far male Perfetto Forse potremmo alzare un pochino la musica Molto bene Niente da fare Se facessimo così No no questo no Stai tranquillo qua Stai tranquillo Niente oh È impossibile attaccare A parte che ci sono dei ritardi assurdi Non siamo più forti Quanto dovremmo Potrebbe essere all'inizio della nostra fine In realtà non capisco bene Perché stia succedendo questo Però Vabbè che fai Tenetene prive Sbarchiamo ovviamente no In questi casi Visto che possiamo farlo Lo facciamo Quindi Mettiamoci qua Allora Porti porti Uno qua E un altro qua No Che cazzo faccio Via Dicevo Uno di qui E l'altro più sopra Questo è sorvegliato però Però Quanto meno Li inizieremo a distrarre E dovrebbe andare tutto bene Vediamo un po' Quanto ci vuole Ovviamente ne andiamo ancora a copertura Ma a breve Vedremo averla Perché si stanno spostando Le nostre navi Allora Non so quanto abbiano Di flotta Penso è ridicola E 15 esatto La reazione Continuiamo qua Con le navi Ma tra l'altro Vi dico che il 25 Maggio Si Aggiornano la mod Finalmente Della Millennium Down Dopo tanto tempo Ce l'han fatta Ancora non siamo riusciti a coprire Questa merda Scusa Quanto ci vuole Ma dove sono Perché non ci arriva Dove ferma la mia flotta Ah qua Beh ci riportiamo Da soli Andiamo qua Delle volte si bug E dovremmo spostarli noi Ecco qua Perfetto Ma sono partiti Questi Quando Le ho detto Le ho detto Ripartire Vabbè comunque Questo qui è fallito Come sbarco Ovvio Perché ci sono troppi soldati Però volendo Potremmo Attaccare Anche qua È coperto Quindi non ce la faremo Nessuno di due Esatto Eh hanno troppo di visione Allora Dobbiamo sbarcare di brutto Tanto Potenzialmente Come sbarchi Ne possiamo fare un casino Quindi Aspettiamo che si ricomponga tutto Ci serverebbero più porti Dobbiamo fare Allora Facciamo un po' qua Perfetto Non è più Un intero Dedicato Alla conquista Di queste nazioni Di merda Perché Hanno troppe divisioni Dai Siamo arrivati a un punto Il gioco Della quale Praticamente È assolutamente Rotto Ed è impossibile Sfondare Comunque Appena si creano Questi porti Che sto costruendo Che ci vorrebbe Dovrebbe voler poco Infatti Mettiamo Questi sbarchi È il gioco Di sbarchare Proprio su tutta la costa Così Potrebbe essere impossibile Una riuscita Della loro difesa A parte che ormai Cioè Stiamo uscendo Abbastanza morti Sì Quindi Penso che Non dureranno A lungo Quanti Quanti uomini Hanno Scusate Due milioni Vabbè Ma che cazzo Contenti loro Dovrebbe essere Così pronti Vediamo Sì Perfetto Boh Appena Tutti generati Perfetto Quindi Iniziamo Uno Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ragazzi Sto facendo una roba assurda Non può fallire Dai Ho uscito pure i porti Per fare sta roba Boh Dovrebbe funzionare Speriamo in bene Guardate che roba Cazzo Per un paese di merda così Che non ci garantisce nulla E' anche vero E' anche vero che è una superiorità aerea Quindi Forse per quello che ci No in realtà no Però vabbè Pensavo c'era Avessero Sono saliti Un bel po' di morti E Ci sono alcune divisioni Che non hanno Che sono prendendo Equipaggiamenti per la divisione turca Vediamo un po' Quanti giorni ci vogliono 56 giorni Il numero massimo è questo Che ci vuole 70 Dai Aspettiamo questi giorni Finalmente dovremo Riuscire A sfondare Speriamo Qui come per il resto Siamo messi bene Volendo possiamo anche aumentare Un po' Le divisioni corazzate Vediamo nuove cose Si è bloccato tutto Perfetto Nuovi equipaggiamenti Eh si Giusto Nuovi equipaggiamenti Molto bene Qui Abbiamo fatto tutte le infrastrutture Al massimo Quasi tutte Anzi quindi Sicuramente andremo molto meglio Adesso Facciamo qualche porto Qui in giro Al massimo ovviamente Per migliorare anche le nostre Linee di rifornimento Perfetto Ora manca Siamo quasi a metà Della porzione totale Esatto Siamo a metà adesso E questo piano assolutamente Non può fallire Assolutamente non può fallire Che altrimenti non so che fare Perché sarebbe impossibile Se parliamo pure questo è impossibile Se sappiamo che è proprio impossibile Andare avanti Andiamo un po' 20 giorni Esatto Mancano 20 giorni Tanto lo stanno continuando ad attaccare Ma senza successo Le divisioni della Quindi potrebbero non capitolare Non ci avevo fatto caso 8 giorni I rimanenti Quindi direi che possiamo andare Quindi Cominciamo con I sbarco Mancano ancora 4 giorni In realtà Cazzo Vediamo un po' Che succede Uh siamo riusciti a sbarcare Perfetto Quindi anche qui Avanziamo Ottimo lavoro Devastati Assolutamente devastati E meno male che ci siamo riusciti Cazzo Continuano a non spostarsi Delle loro posizioni Delle loro posizioni Oh sono comunque fortissime Ma quantomeno abbiamo devastato Grossa parte del territorio Non dovrebbero riuscire a rispingerci Qui Non attaccano più Perché le ho cancellato l'offensiva Niente Un attacco è vano A questo punto Sistemiamoci Qui non possiamo fare niente Oh eh Sono imbattibili Cazzo Sono Thanos Questi Non riesco a fare un cazzo Più che si sbarchi qua Poi non sono riuscito A parte che non le ho Non le ho messi in difficoltà Per nulla Per niente Hanno un 11% Che potenzione Non frega un cazzo Proprio a nessuno Infatti si non ha sbarcati uomini Per più di metà Della sua Espansione territoriale Guardate Guardate Allora Cosa dobbiamo fare qua Creare dei nuovi porti Ovviamente per Coprire Il rifornimento Altrimenti Siamo morti Qui assolutamente Non posso fare nulla Leggiamo già tutto al massimo Dove Vediamo di questo attraversario Incredibili Davvero molto forti Adesso questi No Questi no Non si possono buttare giù E sono queste le cose Che non capisco Di sto gioco Pino a poi I rifornimenti Li finiranno Non posso andare a lungo Dai E' molto difficile Ora continuo A attaccare così Vediamo che succede Oh forse Possiamo ricongiungerci qua Ce l'abbiamo fatta Perfetto Dai che ce la facciamo Ce l'abbiamo fatta Perfetto Cazzo fai Cazzo fai Coglione Boh Guardate che sacca Ottimo lavoro Quindi il segretario Continuano ad attaccare Finchè loro Non esauriscono L'organizzazione Le risorse Eccetera Non possono più rifornirsi Quindi hanno fatto Delle belle sacche E ovviamente Non frega un cazzo Nessuno Dalla loro Capitolazione Cioè Abbiamo occupato Tutto il loro territorio Ma nessuno C'è inna a capitolare Va bene Diamo un po' Quanto Il segretario Capitale Le buttiamo giù Non ho idea Non penso molto A questo punto Qui aumentiamo Di brutta La produzione Di carri 25 divisioni Qui ovviamente Sono riusciti A farsi breccia Non so come Però Questo potrebbe essere Una cosa buona State fermi qua Voi bast... No Porco Gesù Perché l'hug Non mi seleziona Le cose Che dovrebbe selezionare Stanno ritirando Sesto cazzo Perché non attaccate Porco Dio 94% Vittoria Eh no Perdono Qui andiamo Mi sa che dovremmo Sbarcare anche qua Quanti divisioni hanno Ancora? Boh Perfetto Poca Quindi Sbarchiamo pure qua Un porto Qui E Sbarchiamo pure Qui Eh Allo stesso punto ho messo Va bene Ancelati tutti Quindi rifacciamo Sbarchiamo qui E Sbarchiamo di qui Perfetto Piano aggressivo Ora Attacchiamo definitivamente loro Non penso che riescono a resistere ancora Perché sarebbe molto improbabile come cosa Sono capitolati Perfetto cazzo Questa è assolutamente la battaglia più difficile che abbiamo fatto fino ad adesso Quindi finalmente Prendiamoci tutto ciò che è nostro E basta Questi episodi stanno diventando Stanno sommando molto lunghi E Dovremmo combattere contro l'Indonesia nel prossimo episodio E spero di riuscire a far capitare Madonna Una flotta assurda l'Indonesia E Dopo aver fatto Dopo aver sconfitto l'Indonesia Conquisteremo le Filippine Poi Basta Finalmente Forse potremmo attaccare Papua Nuova Guinea Però Non so se è grande perfetto Attaccheremo anche Quindi questa Papua Nuova Guinea Dopo di ciò Ci spanderemo Un pochino In Africa E poi passeremo ad attaccare Finalmente la Nato Che dovremmo levarci dai coglioni In fretta anche E Basta Qui andiamo con le fabbriche militari Che mettiamo qui Ne abbiamo altre in realtà Però non so cosa farmene Facciamo nuovi carri Così aumentiamo le divisioni Le divisioni di carri Avevamo un sacco di fabbriche tra l'altro Quindi portiamo a un bel 45 Le divisioni di carri Quanto cazzo siamo scesi Madonna Siamo scesi un casino Dai troppo Facciamo 35 Quanto siamo Ancora uno Perfetto E Basta Diremo aumentare ancora di più Le produzione Ovviamente Fa perché militare Perché diremo aumentare Le produzione di carri Di non fare molto Il divisioni di carri Se vogliamo battere La nato Perfetto Qui Riempiamo tutto E basta Riempiamo tutto nel prossimo video Quindi ragazzi Per questo video Ci siamo presto nel prossimo video Ciao Ciao